Capita a volte nei propri percorsi di vita di incontrare delle persone che ti trasmettono la passione per le cose che fanno, riuscendo a coinvolgerti, riuscendo a far emergere le tue passioni. Capita, capita a volte che queste persone ti testimonino il significato del verbo condividere, fino ad allora mai esplorato e forse nemmeno conosciuto. Capita, ad esempio, di condividere la passione e la voglia di stare insieme e di fare musica insieme. Capita, altre volte, di condividere il bisogno, magari il bisogno di chi abita nella tua stessa strada e che non riesce a trovare il necessario per sfamare se stesso e la sua famiglia e ti chiama a condividere con lui uno sguardo, un abbraccio. Condividere i bisogni per condividere il senso della vita. Tutto questo, a volte, capita. Forse per caso, non lo so. So solo che quando questi percorsi, queste condivisioni si incrociano, nascono serate come quella di stasera, qui, alla stazione Leopoldo di Pisa, in un concerto per ascoltare la Big Bang della filarmonica volere e potere di Ponte Dea e per salutare l'arrivo della quattordicesima edizione della colletta alimentare. Buonasera a tutti e benvenuti! Buonasera a tutti! 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 la cuantellera Frit B.